Giacomazzo, fermato da Paro, Palladino, si fa vedere De Ceglie sulla sinistra, riceve De Ceglie, il sinistro e il gol! 4 a 1, infierisce la Juventus e c'è gloria per Paolo De Ceglie alla sua seconda presenza in Serie B. La festa dei compagni e il risultato assume proporzioni davvero impietose per il Lecce e immeritate. Sconsolati i giocatori di Lehmann, rivediamo la gran botta con Benussi che si lascia sorprendere. Grazie.